Ed eccoci tornati di nuovo in studio per questa seconda parte del giovedì che è divisa in due rubriche, vado subito ad aprire la prima che è Green Start, abbiamo deciso di chiamarla così, devo dare il merito al mio co-conduttore Lorenzo Capezzuoli Ranchi e saluto l'ospite che appunto ormai è fisso di questo spazio, buonasera Federico Massimo Ceschin, presidente della società italiana dei professionisti della mobilità dolce e del turismo sostenibile. Presidente, ben trovato. Grazie, buonasera. Buonasera a lei, allora oggi abbiamo selezionato alcune notizie per voi come solito fare, però la prima diciamo ci ricolleghiamo a quanto abbiamo affrontato la scorsa settimana, perché in un certo senso torniamo a parlare di agricoltura, nello specifico parliamo di agrivoltaico che sono in poche parole semplicemente gli impianti solari che vengono costruiti e stabiliti sui terreni agricoli. Lo facciamo perché occorre sfatare un mito che l'impostare dei pannelli voltaici sui terreni agricoli vada a togliere suolo all'agricoltura, ma non è prettamente così. E questo lo dimostra anche uno studio, uno studio secondo cui partendo dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, quello che punta a una riduzione dei combustibili e alla decarbonizzazione delle fonti, per preferire naturalmente le fonti rinnovabili, e ha come obiettivo la data del 2030. Ecco, allora, che cosa emerge da questo articolo che abbiamo selezionato, Presidente? Da questo articolo che abbiamo selezionato emerge che questo studio tende a dimostrare che l'impatto stimato in gigawatt che ci attende entro il 2030 e poi entro il 2050, che probabilmente lo studio stesso ritiene sarà aumentato in termini di fabbisogno per riuscire a compiere la cosiddetta transizione ecologica, avrebbe un impatto in termini di consumo di suolo intorno allo 0,5% sul territorio nazionale. È uno studio che va preso sicuramente come un ottimo segno, è uno studio che in qualche modo anche impegna a realizzare la gran parte, della massima parte di questi nuovi impianti sui tetti degli edifici e nei terreni incolti da un certo periodo di tempo, o che comunque possano essere installati su supporti che già sottraggono suolo all'agricoltura. Per altro verso io devo ricordare che da 16,7 milioni di ettari di terreno fertile per l'agricoltura in pochi anni siamo passati a 12,9 milioni e quindi quelle che vengono ridotte come le preoccupazioni degli ambientalisti, onestamente per molta parte io mi sento di condividerle perché è chiaro che c'è anche un fattore di densità, ci sono alcuni territori in cui la densità di questi impianti del fotovoltaico e dell'eolico hanno avuto e credo che siano sotto gli occhi di tutti un impatto tale da modificarne per sempre la fisionomia, l'identità, il profilo e quindi sì, d'accordo, benvengano gli studi che dimostrano come le rinnovabili debbano essere considerate veicoli e vettori leve straordinarie per la transizione ecologica che ci aspetta, dall'altra nel leggere questo articolo non posso non evidenziare che tra il 1990 e il 2000 abbiamo perso 185 mila ettari di terreno agricolo e altri 33 mila tra il 2000 e il 2010 più altri 126 mila tra il 2010 e il 2016, quindi non è questo il trend che vorremmo che il nostro paese continuasse ad avere in futuro, quindi speriamo che questi studi orientino le scelte, ci aiutino ad orientare le scelte appunto anche in situazioni diverse dai terreni fertili. Certo, anche perché è stato evidenziato che lo sviluppo delle iniziative dell'agrivoltaico, se viene accompagnato da analisi fisico-chimiche e da studi agronomici specifici, si possono identificare delle culture che riescono a convivere con l'impianto stesso e questo porterebbe anche a un modello ecosostenibile che consente di produrre energia, offrendo al contempo, al tempo stesso, anche l'opportunità di valorizzare l'utilizzo di culture ma anche le esperienze di alcune professioni, quindi gli agronomi, gli agricoltori, imprese locali e eccetera. Quindi è un'iniziativa, diciamo, un percorso che fa bene sia a risparmi energetico, alle culture, ma anche a livello lavorativo, senza dimenticare naturalmente quello che ci ha detto lei, Presidente, quindi la perdita di terreni coltivabili, che è tanto tanto importante nel nostro paese. Passiamo dall'agricoltura ai trasporti e vi sottoponiamo un altro studio compiuto, condotto dall'Università di Zurigo e di Basilea, che dimostra, pensate, che gli automobilisti cambiano il loro atteggiamento quando sono loro a pagare i costi per quanto inquinano. Ecco, spieghiamolo meglio, Presidente. Questo è uno studio davvero straordinario, viene dalla Svizzera, viene su un campione di cittadini abbastanza limitato, sarebbe molto interessante che qualcuno in Italia ne prendesse, diciamo, lo spunto per riuscire ad essere altrettanto visionari ed altrettanto capaci di mettere in moto dei meccanismi predittivi. In questo caso, i cittadini sono stati divisi in tre gruppi. A tutti i cittadini sono state date informazioni sui costi, da un certo punto di vista economico, dall'altro punto di vista di impatto energetico, appunto, dei costi del loro trasferimento da casa al lavoro. Sono stati divisi in tre gruppi. Ad un gruppo sono state date unicamente informazioni sui costi, ad un altro gruppo sono state date unicamente indicazioni sull'impatto e l'impronta ecologica, a un terzo gruppo sono stati dati anche dei soldini ed è stato detto quello che volete spendere in trasporti spendete, quello che risparmiate lo potete tenere come incentivo alla fine della settimana. E così è accaduto il miracolo, la cosa che diciamo sempre che la transizione deve essere giusta e conveniente, e Aurora l'ha appena detto anche lei parlando dell'agrifotovoltaico, naturalmente se noi riusciamo a dimostrare che la transizione ecologica talune volte è un costo a causa di scelte che ci sono a monte, ma altre volte può essere una grande opportunità o può essere una modalità per cui riusciamo ad efficientare l'uso delle risorse e anche a risparmiare risorse economico-finanziarie, evidentemente queste diventano un bonus che possiamo tenere nel portafoglio o a disposizione delle aziende per incentivare i comportamenti virtuosi. E quindi avanti così, nel senso che sarebbe davvero bello che in Italia questo tipo di sperimentazioni fossero condotte a iniziare dai PSCL di cui abbiamo parlato la volta scorsa e magari dai PSCL nelle scuole, perché potremmo avere un impatto intergenerazionale davvero straordinario tra corpo docente, genitori e studenti, se tutti potessero partecipare a questo contest, ma che mi verrebbe da dire quasi una cosa, non dico come il grande fratello, ma insomma una cosa che è un grande gioco, un grande esperimento sociale, al termine del quale uno si ritrova dei soldini in tasca e comprende che assumere atteggiamenti virtuosi nei confronti dell'ambiente significa anche averne un vantaggio immediato in termini individuali. Certo, per essere chiari diciamo che i partecipanti di questo studio, come diceva lei, 3.700 persone, è stata installata un'app sullo smartphone attraverso cui era possibile stabilire la distanza percorsa, il mezzo di trasporto utilizzato e con questi parametri poi appunto calcolare con precisione i costi dell'inquinamento. Sono stati divisi in tre gruppi, come ha detto lei, e poi allo studio, lo studio è stato completato anche con un sondaggio che ha mostrato che molti cittadini, molti individui sono d'accordo a far pagare ai singoli costi dell'inquinamento derivanti dai trasporti, purché appunto i soldi poi siano utilizzati, sia possibile utilizzare i soldi derivanti. Gli incentivi, quindi questa è la morale della favola, potrebbero essere un elemento chiave per ridurre il traffico. Sarei davvero curiosa di sapere che cosa potrebbe emergere se questo studio fosse fatto in Italia. Più che lo studio, il sondaggio. Se anche noi italiani potremmo essere d'accordo a pagare appunto i singoli per quanto inquinano. A proposito di inquinamento, anzi di belle iniziative, buone abitudini contro l'inquinamento, ci spostiamo a Padova, che è la città italiana dove si usa maggiormente la bici proprio per gli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola. Sì, Padova è in vetta alle classifiche nazionali nell'uso della bike to work, diciamo della bicicletta per andare verso la scuola e verso il posto di lavoro. Sono seguita da Reggio Emilia, Pesaro, Bolzano e Piacenza. Mi piace pensare che non sia solo una questione di altimetria, perché sarebbe molto semplice dire che Padova o Reggio Emilia sono città di pianura e che quindi sono agevolate rispetto ad altre, perché per Bolzano non possiamo dire la stessa cosa, mentre per Foggia, che è forse la città più pianeggiante d'Italia, distesa nel tavoliere delle Puglie, siamo lontanissimi da quei risultati. Quindi, come dire, leggendo il risultato di Pesaro in particolare, dove so che negli ultimi decenni, non mesi e non sulla scorta della pandemia, ma molto prima, sono state attivate delle politiche di partecipazione, sono stati attivati strumenti come la bicipolitana, dove le amministrazioni che si sono succedute, indipendentemente dal colore, hanno continuato a sostenere con forza insieme alla Regione Emilia-Romagna l'utilizzo della bicicletta come strumento privilegiato per andare a scuola e al lavoro, i risultati iniziano a vedersi e quindi ecco ancora una volta che tutto sommato potremmo molto banalmente, anche se non in maniera futile, considerare che il fattore educativo, il fattore stimolante, il fattore di pungolo che le amministrazioni possono mettere in campo per sostenere i comportamenti virtuosi, poi porta in effetto. Nel caso specifico l'Emilia-Romagna, tutta la Regione, offre degli incentivi alle imprese che a loro volta offrono incentivi ai dipendenti che vanno in bicicletta al lavoro, il risultato si vede ed è premiante per tutti, per l'ambiente, per le città, per la qualità della vita, per le persone, come vediamo anche in queste immagini e quindi penso che sia effettivamente la strada giusta. Sottolineiamo anche che è aumentata nel corso del 2021 anche la circolazione dei mezzi elettrici, stiamo parlando nello specifico di monopattini che ormai effettivamente vediamo ovunque e in testa invece a questa classifica dove circolano più i bike ma soprattutto monopattini c'è Palermo, ecco quindi questo è anche un motivo di vanto per il Sud che in realtà quando si tratta di innovazione è sempre un po' indietro. Per concludere rapidamente Presidente perché non abbiamo più tempo a nostra disposizione ricordiamo a chi ci sta ascoltando che da martedì 28 settembre è possibile prenotare l'eco bonus 2021 dedicato all'acquisto di auto a basse emissioni ma anche a auto usate, bonus per le auto usate. Sì, assolutamente, visto che abbiamo pochissimo tempo mi limiterò a una battuta ho visto grandissima promozione degli incentivi per cambiare televisore spero che gli italiani si rendano conto di quanto è più utile cambiare l'automobile anche in virtù del fatto che appunto i nostri comportamenti, il nostro viaggiare con una tonnellata in mezzo di acciaio addosso e trasportando un salotto in giro per le città è un tempo finito e che quindi comunque più riusciamo a ridurre l'impatto di questa abitudine è meglio è. Ecco, prima facciamo meglio è. Infatti anche perché si tratta di 40 milioni di euro distribuiti anche soprattutto in base alla fascia delle emissioni quindi per emissioni da 0 a 60 ci sarà un contributo pari a 2.000 euro per emissioni comprese da 61 a 90 di 1.000 euro per emissioni da 91 a 160 di 750 euro visto che questi bonus finiscono rapidamente consigliamo a tutti i nostri telespettatori che vogliono cambiare l'auto sia per diletto che per necessità di fare in fretta. Presidente, io la ringrazio come sempre per essere stato qui con noi grazie a Federico Massimo Ceskin, presidente della Società Italiana dei Professionisti della Mobilità Dolce del Turismo Sostenibile e riveliamo davvero un piccolo particolare perché in merito a quello che vediamo dietro le sue spalle ovvero All Rude Late to Rome qualcosa bolle in pentola. Grazie, grazie a voi, grazie alla redazione, grazie a chi ci segue da casa. Grazie a lei presidente, alla prossima. Buona serata. E adesso come di consueto l'ultimo spazio del giovedì, la nostra rubrica a cui abbiamo dato un nome abbiamo deciso di dargli un nome o più specifico ovvero voltiamo pagina e lo facciamo come sempre con Silvia Sbaraglia delle Lettrice Opposte. Ciao Silvia, come stai? Ciao, bene bene, grazie. Ecco, la settimana scorsa abbiamo sperimentato questo nuovo format in cui tu e Benedetta ci raccontavate dell'autore, di un autore del mese, della settimana che con ogni probabilità torneremo a proporvi anche nel corso delle prossime puntate. Per oggi siamo ritornate nei nostri abiti soliti con Silvia qui in collegamento che, ricordiamo, cura insieme a Benedetta la pagina Instagram delle Lettrice Opposte che potete naturalmente seguire, vi consiglio di farlo, per avere suggerimenti e recensioni ogni giorno e non soltanto qui il giovedì. Oggi di che cosa ci parli Silvia? So che partiamo da un grande, grandissimo classico. Per mantenere la nostra posizione ho scelto un classico e un moderno. Classico ho scelto Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Eccolo qua. Ora, nella scelta delle copertine, della copertina è stata particolarmente difficile perché ci sono una marea di edizioni, naturalmente, di questo capolavoro. Ho scelto questa che più o meno, diciamo, racchiude, riassume quello che è il racconto, la trama di questo meraviglioso libro. Per chi non lo conoscesse, Silvia, raccontaci un po'. Allora, penso, presumo che la trama, quella basilare della storia d'amore tra Elizabeth Bennet e Mr. Darcy sia un po' conosciuta dappertutto, anche magari tramite dei semplici meme su Facebook che vanno tanto la loro infinita storia d'amore. Però, ecco, non c'è solo la loro storia d'amore, c'è la storia d'amore di tutte e cinque le sorelle Bennet, la loro storia, la loro evoluzione, la loro crescita. C'è anche, oltre a Mr. Darcy, il bellissimo Mr. Darcy, c'è anche Mr. Bingley, che è un altro uomo affascinante, ambientata nell'Ottocento, quindi parliamo di un amore un po' particolare, non l'amore a cui siamo abituati oggi, magari sui social. Un amore sconosciuto, lo definirei così, perché diciamo che da un giorno all'altro conosci una persona, magari decidono al posto tuo che dovrai sposare quella persona, e quindi un amore sconosciuto potrebbe nascere come potrebbe non nascere. In questo caso l'amore riuscirà a sbocciare, per fortuna, e quindi diciamo che Jane Austen ci racconta le storie, le vicende e gli orgogli e i pregiudizi. Che immagino, soprattutto pregiudizi, all'epoca erano davvero, davvero tantissimi. Perché hai scelto di proporre questo classico quest'oggi, Silvia? Allora, diciamo che dalla trama ho parlato di un amore sconosciuto, quindi non si potrebbe notare tanto la vicinanza con il 2021 in cui viviamo, ma in realtà per come viene esplorato il genere umano da Jane Austen, io credo che si avvicini molto. Il titolo è perfetto, Orgoglio e pregiudizio. L'orgoglio perché c'è questo orgoglio tra i due protagonisti, tra Elizabeth e Mr. Darcy, sono due persone molto, molto orgogliose. Elizabeth non scende a compromessi, una volta che si è fatta un'idea non cede mai. È orgogliosa, quindi se le dicono magari anche che sbaglia, lei è difficile che accetta questo errore. La stessa cosa a specchio Mr. Darcy, è un tipo che ha anche lui le sue idee e difficilmente cede, quindi sono persone molto orgogliose e se vogliamo nei rapporti umani oggi c'è tanto orgoglio, troppo orgoglio. È bello vedere l'evoluzione durante il romanzo, da un orgoglio iniziale esagerato all'orgoglio che si sgretola man mano che la storia prosegue, quindi un po' come esempio, sarebbe da prendere un po' come esempio. La stessa cosa per quanto riguarda i pregiudizi. I pregiudizi c'erano nell'Ottocento per vari motivi, più da un punto di vista economico che da un punto di vista magari caratteriale o del vestito come guardiamo adesso. Però ecco, c'è questa... Abbiamo un piccolo problema con il collegamento. Chiedo a Manuel di provare a ripristinarlo, così che Silvia possa finire la sua recensione e poi presentarci anche l'altro libro che ha selezionato per noi oggi. Eravamo partite appunto da Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Vediamo se Silvia riesce a connettersi. Eccoci, sei tornata Silvia. Stavamo parlando dei pregiudizi, ti abbiamo perso lì. Sì, ok. Guarda un po'. Sì, dicevo, comunque in tutto il romanzo si vede questa trasformazione sia dell'orgoglio che del pregiudizio, che sparisce piano piano. Sono due protagonisti insieme a Elisabeth e Mr. Darcy, però vanno sgretolandosi. Lo suggerisco come istruzione. È un romanzo da cui prendere esempio. Facciamoci guidare da questo romanzo per sciogliere un po' il nostro orgoglio e i nostri pregiudizi. Anche oggi sono più forti che mai. Poi andiamo all'altra selezione di oggi. Sparsiamo da un grande classico e, come hai detto tu, invece ha un lavoro moderno. L'arte di legare le persone di Paolo Milone. Ecco, questo credo sia un po' più sconosciuto rispetto a Orgoglio e pregiudizio. Questo è in realtà nuovissimo. È uscito poco poco tempo fa. Ed è un opposto di Orgoglio e pregiudizio per mantenere la nostra tradizione. Qui non c'è amore in alcun modo. Anche se dal titolo potrebbe sembrare l'arte di legare le persone. Io, quando ho acquistato questo libro, pensavo si trattasse di amore. Un legame affettivo. Sì, perché poi non leggo mai le trame prima di acquistare un libro. Mi fido del titolo. L'amore non c'è assolutamente. E non forse l'amore per il proprio lavoro. Perché Paolo Milone è uno psichiatra e ci racconta del suo lavoro e della sua esperienza nel reparto di psichiatria. Non è un romanzo classico dove c'è una trama dei personaggi, chiaramente, a parte lui che si racconta. E' fatto anche... Vi faccio vedere proprio all'interno per farvi capire un po' come struttura, perché è particolare. Non so se si vede bene. Sì, effettivamente l'impaginazione è diversa dal solito. È un po' a spezzoni. Sono come dei ricordi, è come se ci fossero dei ricordi, dei lampi, e lui ci racconta questi piccoli avvenimenti. Ci descrive un po' che cos'è la psichiatria, che cos'è lavorare in psichiatria, avere a che fare comunque con una parte della mente che si sta ancora studiando, che non si conosce ancora. Lo suggerisco perché mi affascina particolarmente il mondo della psicologia, della psichiatria, ma soprattutto perché analizza chi sono i veri fatti. Ah, lo siamo un po' tutti forse, no? È particolare, sì, perché è difficile. Magari la persona che ci può sembrare malata, mentalmente, in realtà ha solo bisogno di aiuto, di un aiuto affettivo, di sentirsi capito. E poi invece all'opposto ci sono le persone più aggressive, comunque non è uno psicologo, è uno psichiatra, quindi lavora in ospedale. È bello, è particolare, si deve avere uno stomaco d'acciaio per poter leggere questo romanzo, perché chiaramente quando nel titolo parla di legare le persone, si riferisce fisicamente a legare le persone. Quindi magari ci vuole un po' di stomaco. Un po' di stomaco e pochi pregiudizi nell'affrontare questo testo. Silvia, grazie, come sempre. Ricordiamo appunto la tua pagina, la pagina tua è di Benedetta, le lettrici opposte su Instagram e i consigli che abbiamo selezionato per voi oggi. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen e l'arte di regare le persone. Paolo Milone, nel classico stile delle nostre lettrici opposte. Grazie Silvia, grazie di cuore. Alla prossima settimana. Grazie a te, ciao! E grazie anche a voi per averci seguito anche oggi. Ristart264, come sempre, torna domani alle 18.30. A questo punto la linea, il telegiornale. Buonasera. A questo punto la linea, il telegiornale. Al prossima settimana.